Le sfide fra Chelsea e Barcellona in Champions League sono sempre state in qualche modo falsate da errori arbitrali e stasera c'è il grande timore che i fischietti ci mettano ancora una volta lo zampino. Sul Camp Nou aleggiano ancora i fantasmi degli arbitri Anders Frisk e Tom Henning-Ovrebo, ma il portiere del Chelsea, Peter Cech, ha fiducia nel prossimo fischietto turco. L'arbitro gioca sempre un ruolo fondamentale, come avete visto in passato. Tra noi e il Barcellona ci sono sempre state grandi partite, con qualche controversia di troppo, che purtroppo è passata alla storia al posto delle nostre battaglie. L'arbitro di stasera è turco e se ha un po' d'esperienza nei derby quali Galatasaray e Fenerbahce, allora non dovrebbe avere alcun problema a reggere la pressione di una semifinale di Champions League. E comunque noi non siamo la squadra che causa problemi sul campo. Il Barcellona arriva alla sfida dopo l'1-2 subito in casa sabato scorso nel Classico col Real Madrid di José Mourinho, l'ex guru del Chelsea, che potrebbe aver passato ai Blues qualche segreto su come battere i catalani. Sì, ci ha tenuto una sessione tattica, mostrandoci tutti i file per batterli. No davvero, non lo abbiamo sentito. Get it done. No, vabbè. No. No.